Sono stato appena contattato da un exchange che ha messo a disposizione un airdrop crypto grazie al quale voi che state guardando questo video riceverete 20 dollari senza fare praticamente nulla tutto in modo completamente gratuito questo è un airdrop molto interessante e se ti va di ricevere questi 20 dollari tutto quello che dovrai fare è guardare questo video Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel format degli airdrop crypto oltre ai progetti crypto in questione tante volte anche gli exchange mettono a disposizione degli airdrop quindi dei bonus in soldi che puoi andare a prelevare che guadagnerai semplicemente effettuando un'azione oppure semplicemente una registrazione oggi quindi voglio parlarti dell'airdrop di M2 andremo a fare un tutorial e più avanti vedremo come poter andare a riscattare questo bonus perché è davvero molto molto semplice possiamo vedere che il bonus è questo il bonus in questione 20 dollari gratis e quindi guarda questo video e mi raccomando se vuoi rimanere aggiornato su temi riguardanti il trading online nel settore delle crypto oppure semplicemente sugli airdrop crypto lascia un like e iscriviti al canale per non perderti nessun tipo di contenuto sto realizzando tantissimi contenuti a tema trading e a tema airdrop iniziamo subito nell'andare a fare una panoramica di questa piattaforma perché è davvero molto molto semplice e soprattutto vi darà anche la possibilità di effettuare svariate cose molto interessanti e dopo passeremo all'airdrop che vi permetterà di ricevere 20 dollari prelevabili ragazzi quindi non sono bonus ma sono semplicemente prelevabili voi li riceverete e potreste farci qualsiasi tipo di cosa innanzitutto M2 è un exchange quindi una piattaforma che ci dà la possibilità di poter andare ad acquistare e vendere crypto per poter andare ad acquistare e vendere crypto è davvero molto molto semplice abbiamo semplicemente la funzione convert che ci dà la possibilità di andare a convertire qualsiasi tipo di cryptovaluta che noi possediamo in altre crypto ad esempio i 20 dollari che riceveremo di bonus possiamo andarli ad utilizzare per acquistare bitcoin quindi all'interno di questa sezione riceveremo i nostri 20 dollari e qui possiamo andarli ad investire in bitcoin ovviamente ragazzi questo è un video a scopo informativo e non è assolutamente un consiglio finanziario quindi mi raccomando fate le vostre giuste valutazioni prima di effettuare qualsiasi tipo di cosa un'altra funzione molto interessante che ci permette comunque di guadagnare dei soldini attraverso il mondo delle crypto è proprio la funzione earn ragazzi questo è un exchange che da poco è approdato in italia abbiamo anche qui il loro profilo twitter dove possiamo andare a visualizzare qualsiasi tipo di informazione ritornando a noi abbiamo la funzione earn che ci permette di mettere in staking le nostre criptovalute e guadagnare una percentuale guadagnare una commissione andando all'interno di questa funzione possiamo vedere che attraverso usdt abbiamo un ipi del 10% quindi qui possiamo andare a scegliere la quantità di tempo che vogliamo detenere i nostri asset e qui ci apparirà la percentuale che possiamo andare a generare attraverso questo staking quindi è molto interessante andare a visualizzare anche questo perché comunque ci permette di guadagnare un ulteriore cosina in più in modo passivo utilizzando questo exchange ovviamente tenendo in considerazione tutti i rischi del caso ritornando a noi abbiamo anche la sezione spot trading dove possiamo andare ad acquistare e vendere criptovalute in questa sezione possiamo vedere che qua possiamo andare a scegliere il determinato asset supponiamo in questo caso abbiamo bitcoin usdt e attraverso questa sezione possiamo andare sia ad acquistare che a vendere i nostri bitcoin per poter andare ad investire magari nel lungo termine questa non è la sezione futures per andare nella sezione futures dove possiamo andare a fare proprio trading basta andare in quest'altra sezione qua abbiamo la possibilità di poter andare a fare trading con la leva finanziaria in questo caso la funzione è questa ossia futures ritornando nella sezione spot trading possiamo andare a visualizzare come poter andare ad acquistare e vendere criptovalute ovviamente bisogna depositare usdt nel proprio portafoglio e qui troviamo la sezione buy btc ordine market inseriamo la quantità ed il gioco è fatto qui andiamo ad acquistare semplicemente btc all'interno della piattaforma qui possiamo vedere tutte le criptovalute listate che possiamo andare ad acquistare senza nessun tipo di problema e quindi è un classico exchange che ci dà la possibilità di poter andare ad acquistare e vendere criptovalute abbiamo tre sezioni molto interessanti che è la funzione earn dove possiamo andare a mettere in staking le nostre cripto la funzione convert dove possiamo andare a convertire le nostre cripto in altre criptovalute la funzione spot trading ovviamente qui in alto troviamo tutte le criptovalute listate ci sono tantissime cripto e poi infine abbiamo anche la sezione futures dove possiamo andare a fare realmente trading utilizzando la leva ora come possiamo andare a riscattare il bonus e cosa bisogna prendere in considerazione perché ragazzi oltre ad avere la possibilità di poter andare a ricevere 20 dollari gratis possiamo andare a ricevere altri 260 usdt di commissioni di trading i 20 dollari che riceverete li riceverete gratuitamente potete andare a prelevare qualsiasi tipo di importo mentre questi 260 dollari gratis potete riceverli per poter fare trading quindi li spenderete in commissioni di trading per chi fa trading è molto interessante quindi per ricevere questi 20 usdt e sfruttare questo airdrop cripto la prima cosa che bisogna fare è iscriversi tramite il link che vi lascio in descrizione dopo essersi iscritti e dopo aver effettuato la propria verifica d'identità riceverete 20 dollari 20 usdt nel vostro portafoglio con cui potreste farci qualsiasi tipo di cosa potreste prelevarli potreste acquistare delle cripto potreste farci trading e tanto altro quindi è un airdrop che potete andare a sfruttare semplicemente registrandovi ed effettuando la verifica d'identità dopo aver ricevuto questi 20 dollari possiamo andare a riscattare quest'altro bonus che hanno messo a disposizione innanzitutto quello che bisogna fare andare all'interno di questa sezione è andare su rewards hub nella sezione rewards hub possiamo andare ad effettuare quest'altra emissioni e ricevere altri bonus quindi questo è un airdrop molto molto semplice l'airdrop più semplice che io abbia mai portato nel canale basta registrarvi e riceverete 20 dollari gratis e per chi non lo sapesse queste piattaforme mettono a disposizione la possibilità di guadagnare soldi gratis semplicemente perché vogliono farsi conoscere all'interno del canale vi ho portato migliaia di airdrop e tantissimi tantissimi bonus e questo è uno dei tanti poi quando avranno finito i fondi semplicemente non ci sarà più questa promozione quindi chi prima arriva meglio alloggia volete registrarvi voi, qualche vostro amico potete condividere questo video a quante più persone possibile detto questo tralasciando il bonus che mette a disposizione penso che sia un'ottima piattaforma per poter andare ad acquistare e vendere cripto abbiamo anche il loro token proprietario che attualmente è a 2 dollari io vi saluto, iscrivetevi al canale e noi ci vedremo nel prossimo video ciao